no 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 benvenuti ragazzi e benvenuti su canale di giochi next gen siamo qui su tipa 16 indivisione 9 nel frattempo il nostro servizio che attacca ha una buona formazione inglese iniziatriamo perisic 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 1 a 0 subito perisic passiamo in attaccio mamma mia perisic 1 a 0 al quinto minuto con un pallone dentro luis adriano parata 2 a 0 il pipita il pipita con saluta in andiamo verso la bandierina ma il pipita 2 a 0 guardate qui già sulla linea aveva salvato il pipita al volo bellissimo gol pallone per il pipita il pipita avanza avanza il pipita il pipita avanza il pipita avanza di qua in al tiro parata di peterchek pallone dentro bonci while back fuori di pochissimo di ramsey per fortuna che non ha segnato se no domani sarebbe morto qualche vip o qualche giocatore virtuale in pipa entro ancora pallone su fuori sta sfiorando un gol attenzione al tiro fuori vediamo con il tiro di piani deviato ci provo la bomba con guari vediamo il tiro deviazione buona per adriano dentro provato a rimetterla subito luis adriano al tiro parata di peterchek pallone dentro per il pipita il pipita il guain è solo se ne va da solo i guain con il pipita dentro pallone che non passa tra le gambe poi il tiro nulla da fare ancora ci prova piani c'è la parata c'è il gol 30 però era fuori gioco no 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 abbiamo regalato il gol incredibile ha fatto il gol regalato da non so chi da Michael mi sa ci siamo autocomplicati la vita da soli pallone fuori attenzione solo con guai back al tiro andanovi spara freddy guarin avanza freddy guarin avanza miracolo e rimane nella palla non ci credo non ci credo ha dato pure pallo contro ancora pallone dentro 1 2 bellissimo perisic avanza avanza perisic perisic ancora è solo ancora parata bravo e brava non perdere palla esce andano dice e finisce qui finisce qui ragazzi la partita è finita alla fine ci abbiamo fatta due a uno per noi quindi i primi tre punti queste due a uno e ci vediamo proprio con la seconda partita ok ragazzi eccoci giunti alla seconda partita del giorno prova il tiro qui non so che cosa abbia fatto e bravo e aumenta anche il lag sta aumentando anche il lag ragazzi che è aumentato il lag quando attacca aumenta il lag io ancora mai con mai con ancora non è messo dentro ancora l'inizio adriano per i guai in al tiro poi c'è il gol c'è il gol c'è il gol dove si fa con il mila del pjanice il gol il mila del pjanice dentro i guai i guai i guai dentro ancora è il parà la parata è il tiro che avevamo provato arriva il tiro i guai miracolo miracolo dopo una bella azione di Ebrara pallone dentro colpo di testa fuori di pochissimo ancora pallone dentro provare i partiti in contropiede con l'inizio adriano che da solo se ne va è solo ancora per i guai in al tiro al pipita parata ancora del suo portiere incredibile maicon dentro l'inizio adriano di pochissimo fuori di testa è fortissimo ah dai buonucci bel colpo di testa di leonardo mi ha sbagliato danno possibilità con adriano ancora adriano ancora dentro pallone che rimane lì gol 2 a 0 il pipita che si rimane nella porta e viene festeggiato così 2 a 0 Gonzalo Higuain guardate qui si trova una spesa di palli la palla rimane lì e Higuain grandissimo gol qui prova il tiro un tiro belletario del nostro avversario ma senza alcun tipo di pericolo per fortuna proviamo a cercarlo Higuain ancora ha impazzire il suo messa attenzione pallone ha messo dentro e guardate qui avvince ottocento di impari il tiro che viene parato però ha vinto nuovamente ottocento di impari perché giusto così lì cedriano ancora dentro per muonezza la che se ne va se ne va sarà sarà al centro lì cedriano anticipato di un soffio se ne va se ne va mette pausa siamo l'83 spero che non voglia quittare perché non avrebbe senso ok il nostro avversario ha quittato quindi ovviamente non può mai mancare il quittatore di turno ecco qui ok ragazzi abbiamo vinto e con questo ho raggiunto 6 punti quindi mi salvo per la divisione 9 l'obiettivo minimo è raggiunto quindi ora puntiamo dritto alla divisione 8 nel prossimo episodio ok ragazzi allora io spero che vi sia piaciuto che vi abbia divertito questo nuovo episodio di FIFA ho in mente di fare una serie su FIFA che non vi voglio svelare quindi continuate a seguirmi perché probabilmente vi porterò una serie molto molto carina che da quello che ho visto non ha ancora portato a nessuno cioè il target della serie è già stato portato ma nello specifico quello che volevo fare io non è ancora stato portato da nessuno allora ragazzi come sempre lasciate like commentate condividete se vedete insomma far conoscere così da altri vostri amici mi raccomando iscrivetevi al canale se non avete ancora fatto ci vediamo al prossimo video qui da AngeloNero83 è tutto Bella